buongiorno a tutti ragazzi oggi sono qui per dirvi che dato che è sabato andremo a trovare i nostri genitori anche perché ci hanno detto che hanno una nuova casa e anche un animale domestico nuovo quindi quale migliore occasione e adesso però devo svegliere mia sorella perché da solito non si sveglia mai kate oddio ma è modo di svegliarmi sì perché dobbiamo andare da mamma e papà oddio vero che ore sono guardata piccia aspetta ma è tardissimo fra un po perdiamo il il treno ci dobbiamo muovere facciamo che la doccia la rimandiamo a dopo vestiti allora dobbiamo fare la valigia molto velocemente portiamo il pigiama e questi due finish alla fine stiamo solo oggi e domani quindi andiamo dai buongiorno ragazzi com'è tutto bene noi tutto bene stiamo aspettando le nostre due bellissime gemelline grace e kate le conoscete molto bene che ci vengono a trovare dato che è appunto sabato quindi quale migliore occasione per rilassarmi un po prima che arrivano a casa di tsunami direi di incominciare con un bel bagno rilassante buon bagno questo sì che si chiama relax e adesso mi faccio un bel bagno dopo essermi insaponata faccio lo shampoo infine faccio il balsamo che non è vero non è infine perché poi faccio anche un po la maschera perché ho i capelli leggermente secchi secchi e crespi cioè proprio i miei capelli non si possono guardare e oggi ho intenzione anche di cambiare capigliatura adesso vediamo insieme ok e adesso metto questa maschera da capelli asciutti senza risciacquo ho sbagliato ragazzi da capelli bagnati ma senza risciacquo la dobbiamo fare assorbire letteralmente e interamente dai capelli adesso armiamoci di phon e incominciamo ad asciugare i capelli non chiedetemi come mio marito non si sveglia ma per svegliare mio marito ci vogliono letteralmente le bombe dopo aver asciugato i capelli come vi ho già detto voglio cambiare capigliatura quindi armiamoci di spazzola e vediamo cosa combino ok ragazzi credo di esserci riuscita ho deciso di fare questo mini tuppetto lasciando i capelli dietro sciolti si evidenziano un po le mie orecchie cosa che io odio abbastanza però è carino tanto dobbiamo stare semplicemente a casa ed è anche comodo adesso metto un po di gel per capelli sulla parte superiore della testa in modo tale che non si spettina dopo due secondi perfetto adesso posso riposare tutto e metto la mia maschera viso adorata questo è il profumo e ecco qua questa mensola è leggermente alta è un po complicato prendere le cose però ci riusciamo dai mettiamo un po di maschera e un po di profumo ed ecco qua a me viene una nostalgia assurda perché lì sopra ci sono ancora appesi i costumi guardate che carino il mio e veramente mi viene da piangere però vabbè questo qui lo metto nelle cose da lavare e mi scelgo un completo ok ragazzi scusateci c'è stato un piccolo taglio nel video ma ci siamo cioè io mi sono vestita perché fino alla parte dove mi vestivo avete visto poi mi sono vestita e mi sono vestita così e poi ho svegliato a lui che in ogni caso non avrebbe registrato perché lui di prima mattina non vuole parlare sgolbutico antipatico e tutto quanto grazie eh di nulla amore comunque adesso siamo qua che aspettiamo le ragazze per quanto riguarda i posti a casa non saremo più 2 ma saremo 4 adesso per oggi e domani e per quanto riguarda le sedie già ho provveduto il problema più grande è il letto o meglio non sappiamo dove mettere i letti cioè nel senso perché non ci sembra il caso di farle dormire qui al centro del bagno neanche il caso di farle dormire qui in cucina tanto meno caso di farle dormire fuori in spiaggia quindi le dobbiamo fare dormire per forza qui la nostra stanza è piena tappo quindi io inizierei dallo spostare il nostro bellissimo brian proviamo a metterlo qui anche a lui in cucina senza farlo morire perché ricca potrebbe ucciderlo e adesso vediamo come possiamo risolvere la situation ci vediamo quando abbiamo capito come fare ok ragazzi siamo super felici perché siamo riusciti a mettere qui un piccolettino matrimoniale rosa così va benissimo è in tinta con la cuccia di brian e siamo riusciti anche a posizionare brian nella stanza così da evitare di farlo scontrare con chicca con il gattino quindi perfetto abbiamo provveduto tutto top sono molto felice di questa cosa perché non abbiamo dovuto spostare niente non ho dovuto levare le piante non ho dovuto levare il puff non ho dovuto spottoccare niente proprio non ho spostato nemmeno una virgola e c'è entrato alla perfezione quindi davvero perfetto tant'è che durante la settimana quando loro non ci sono potremmo anche lasciarlo lì non darebbe chissà quanti problemi e adesso tu hai detto che ti vuoi mettere un po sulla sulla dondola ecco mentre io invece preparerò la colazione per tutti e quattro quindi adesso diamo il pane e momentaneamente lo appoggiamo qui perché occupa leggermente un po di spazio poi mettiamo il vassoio qui e adesso qui andrò a mettere tutte tutte quante le cose vediamo come mi riesco ad organizzare ho finito i cornetti li devo andare a comprare quindi amore aspettami un attimo a casa che io scendo subito e torno che devo andare a comprare i cornetti perché sennò non abbiamo come fare colazione sennò con il toast e la nutella ma dai un'accoglienza un po migliore buongiorno salve noi già ormai ci conosciamo si può dire che vengo sempre qui sì esatto quindi anche lei ormai si è abituato alla mia pazzia allora mettiamo un bel po di cornetti qua dentro perché li ho finiti quindi devo fare il rifornimento e mi sa che dopo mi arrivo qui anche lei devo fare il rifornimento perché me li sono presi tutti vabbè già che ci stiamo prendendo anche qualcosa prendiamo tipo questo prendiamo la marmellata perché non ne ho a casa quindi prendiamo un'altra busta e mettiamo la marmellata mettiamo cereali piadine patatine perché le vedi non c'entrano la busta quindi fa niente se ci entra ci metto anche questo si c'entra va bene mettiamo il latte accompagnato dal latte al cacao se ci entra via latte al cacao ok ci entra e basta più mi può pagare queste cose ok grazie mille arrivederci ciao ciao a tutti arrivederci sono tornata ho preso quattro cose precise ho sistemato la spesa adesso mi devo muovere perché le ragazze mi hanno chiamato mentre ero per strada e mi ha detto che sono arrivate col treno il tempo della strada è solo qua quindi veloce ok ragazzi ho sistemato tutto ho messo quattro cornetti quattro biscottini sul vassoio e adesso non ci resta che aspettare ciao ragazzi noi siamo arrivati ma i nostri genitori ancora non lo sanno e già il fuori l'esterno è bellissimo cioè guardate quanto è figo qui in estate ci divertiremo un sacco perché in estate naturalmente verremo qui perché non avremo scuola ci divertiremo un sacco hanno messo pure la piscina se a due metri c'è il mare però vabbè fa niente ciao ciao amori ciao ci siete mancati davvero tantissimo adesso io ho preparato la colazione non so se prima volete fatto il tour della casa ve lo faccio se no prima mangiamo poi ve lo faccio no mamma prima mangiamo perché non abbiamo mangiato e stiamo morendo di fame ok venite venite grazie mamma grazie papà ok ragazzi noi abbiamo finito di fare melena di fare colazione e abbiamo poi chiacchierato un po e adesso venite che vi faccio il tour della casa allora ragazze questa è cucina e qui c'è un mini salottino molto bello poi qui abbiamo il bagno che già è la mia stanza preferita si anche la mia e e poi c'è la camera da letto per voi abbiamo momentaneamente aggiunto questo lettino qui spero vi vada bene sì è molto bello grazie prego ragazze e non è questa è la camera e quelle brian molto bello e il nuovo animaletto non l'avete vista venite e lei oddio non ci avevo fatto caso ma neanche io ciao piccolina vieni qua oddio ma che cucciola come l'avete chiamata chicca ciao chicca è stupenda e bellissima mi piace tanto 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 e poi stramorbida quanta cicciottella stupenda si mangia un sacco si vede e va bene ragazzi spero che questo ritrovo questo incontro vi sia piaciuto e domani uscirà il video diciamo tutta la giornata insieme quindi non ve lo perdete mi raccomando e nulla vi mandiamo un bacione grande grande iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto lasciate un commento se vi va e un mi piace se vi è piaciuto il video ciao ciao ragazzi